fuori a cavallo del west che mangio solo il bidet per mantenere la peleura più bella che c'è mi piace andare nel mento e vivere dentro cern eccoci qua ottimo buco ottimo buco wey wey ma mia ragazzi che cesso di persone guarda come god gamer ho qua adesso qui la gente non si ricorda che c'è il gradino e quindi cade no ho saltato tutti no non ho god gamerato ragazzi guarda che non passi no ragazzi parla parla e poi esce l'ultimo io che è passato il mare è passato però potreste addirittura moro se la rischia basta no lo faccio nooo perché meno male che l'ho votato io ho votato anch'io che fuori nooo mi conoscete così bene ma la musica cosa c'entra con quello che sta succedendo cosa fa dove va signore signore dove va no no cade dalla sedia attento no la tengo io la tengo io ma che si sposta che fa quello è diventato yamco su dove va no non funziona questo devono essere cose più generiche non bisogna fare reference alla realtà ha fatto veramente berlusconi gandhi non ha fatto berlusconi che combatte gandhi non è possibile Gli Ezra veloce no la legna aia Marco vieni a fare i ponti 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 i ponti corri legna 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 inciditi ma non lì del punto più inutile l'hai messo che sei veramente del punto più inutile non ho capito allora grande bastardo qua bastava qui bastava ma cosa stai fermo prendi la legna ma perché non sono più Pierpaolo Pisacchiano hai visto che te lo punti addosso Marco perché è arrivata di un bravo non lo so oh my lordi è entrata oh my lordi non so ma questa signora nuda con una testa da me non è nuda è vestita no allora è una vecchia in bikini con un corpo da giovane ragazzi cosa succede da me è vestita 200 case che valgono 5 euro l'una tra l'altro oh non sale ah ma perché non si appende ah qui c'è il buco sardinia mi appiccico al super eh come è successo l'ho detto ed è uscito a schermo com'è possibile com'è possibile non lo sapevo sarebbe uscito super e ho detto super e allora dividiamoci mi sembra la scelta più azzeccata eh solo per avere meno gente tra i coglioni non lo sapevo aspettate l'ho detto l'ho detto l'ho detto no ma perché allora mi fai scegliere spacco qualcosa io eh spacco qualcosa spacco qualcosa non lo sapevo ma avvicinati ma avvicinati ma avvicinati ma forse sono qui qui sono qui occhi non perdete perché non abbiamo un pochino quindi me ne vado ma in periodo cosa cazzo stai facendo mi dicevo a togliere mi correva a basso ma scudo io non ce l'ho fatta per dire io ho mollato però uno vive cioè alla fine ci sta lì vivi di feed se ti ricordi oh mio dio dovevo girare no ma ho vomitato sui piedi Mauro prova a trovarmi fai vedere Marco dove sei incredibile impressionante invisibile questa volta per davvero Marco sei seduto? no ah non sei tu ma guarda te questo cercami un attimo invece ero io Moro nooo ma bellissimo sono stato bravissimo questa volta Marco vedrai il termoraculo? vediamo un po' no non ti preoccupare ma Marco ma l'hai preso sono vivo credo Kim del Napoli faremo un nuovo canale si chiamerà Pornomax Pornomax va bene tu lo vuoi vedere Pornomax? ma non gli dirai bambini ma per favore Mariolone cosa fai? ma che dice? guardate qua no questo non lo prendo ne sbatto le palle di quello ahhh ha finito il disco? eh luco se vai via per favore eh? non trovo più disco ce l'ho ah ma ancora qui sei? luco deve andare insomma ma per favore si ma per favore si c'è nel Moro By Night che stavamo parlando di giochi che facevamo da piccoli no Zesty non lo vedo eeeh no non mi rompe eeeh eeeh non è nulla poi Zesty ha fatto un sogno not safe for work su di te Marco ha detto in che senso? porno ah porno not safe for work a meno che è una persona senza il metto semplicemente che non è sicuro per il lavoro senza credo senza le scarpe antinfortunistiche senza senza i calzini e se che ridere questa cosa tu vai su porno cerchi not safe for work e ti escono fuori queste cose oh siamo qui topo aperto eh si Moro mi sono fatto bello per te Moro ma c'è la vallera ma come c'è la vallera? si quando ti abbassi tieni ma perchè siamo senza cartilagine bellissima perfetto come fai ad accarezzarmi? no cos'hai fatto? Lino guardami uuuuuh adesso cosa c***o faccio? largo basta largo ma io combatterò con i denti e le unghie e i piedi non c'erano però bello ma si è entrata ragazzi ragazzi ho fatto quello anch'io palo nooo ho fatto palo anche della ribattuta non è possibile nooo anch'io la voglio addio malino io sono qui dentro me la butti giù? certo oddio come si ferma ma mi aiuto metti l'artiglio di pollo qua c'è la liezzar ma tu dove sei? ah sei questo tu no io non ce l'ho ma che ci ha passato ma che è già aperto è vero guarda ma dov'è? dov'è l'oggetto? dove si vede l'oggetto? eeeh e smettila urlo adesso urlo urla urla ma gli unici due pirla eliminati cosa succede moro? no gli vedo il cube no no lo rifà ma no la vecchia l'uzba no moro la vecchia ciolla hai distrutto adesso ci fa causa l'inghilterra intera no oh il termoraculo il termoraculo come finale ragazzi incredi- ma sta uccidendo me che palle che c'è quanto forte si ma lo sta uccidendo fermate lo progno è illegale è un abominevole uomo della barra sento la radio mi dava fastidio quella musica che c'era aspetta ah ne troviamo un'altra moroooooooooooooo cosa è successo? perchè c'è una ruota là? perchè la portiera non c'è la portiera moro ma che cumbi là oh mio dio no lì no ci manca una ruota metti il freno a mano metti il freno a mano metti il freno a mano vado male casse no male ducati ma devo fare delle cose non mi tirate i barili di pelle ma come si fa le gambe sono mollizze le gambe sono mollizze ok concede la tuscia non prendete in giro i poveri Marco mi ha risposto qualcosa adesso sono all'osteria dell'anno quindi non posso raggiungerle non posso passare aspetta guarda che prendiamo gol guarda che prendiamo gol muori piuttosto gg moro attenzione però eh che mi incazzo mi addormento vabbè via qua via come? bellissimo mi sto divertendo un casino rispondere a quelle volte ma lei è mia nonna lei ma signora è che c'è sto lavorando e non posso signora c'è e non posso c'è capisce e se è rotta c'è qui è rotta la finestra non posso proprio non posso proprio aprirle e non posso a parte che si calmi puttana sua nipote ma le pare il modo l'ultimo posto è mio no ma dai non ho fatto la strada ora va detto eh se viene eliminato subito ti conviene cancellare il VOD e molto occupabile verrà eliminato subito non l'ha mai fatto una bella figura ecco guarda viene umiliato già dal vedo del sangue io già eh si ragazzi sta perso c'è oh oh forse l'acqua nel serbatoio non ha aiutato mi sa di no anche l'alcol vabbè almeno c'è lei almeno c'è la signora qua spingo togli il freno a mano aspetta c'è una signora in braccio moro ma sono sotto in goppe aspetta che non ti può occupare fatti vedere bene in braccio moro sigla mentre ero al pc sullo sfondo c'era il morto sedu ah ecco no perché sto lavorando porca di una miseria mi arriva anche il tizio a fordere il cadavere poi come si come era simpatico perché mi sono girato l'ho proprio sgamato sul posto e ho fatto eh io ho fatto niente ragazzi dove va? dove è andato? l'ho lanciato via col fustolo da mi tolgo veramente pochino eh ma perché mi sa le magie non vanno molto bene non l'hai preso da me l'ho preso in piede ahhhh 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 è successo ragazzi è successo sei partito in alto? sì no moro eccomi moro ma muoviti quando sei lì in mezzo all'area eh ma che mi muovo? guarda sono libero sono perfetto è appunto eh ma tu devi essere libero c'è un difensore ah già sono perfetto scusate si um scusate non ci pensavo questa volta ero distratto ragazzi sono libero passate ma forza fai moro vieni moro è andato davanti i tre liberi eravamo da quello l'unico no eh non è vero la libero anche lui prima dopo non più ciao johnny lawrence johnny lawrence johnny lawrence ciao johnny lawrence ciao johnny lawrence johnny lawrence ma confessione professione di cacca la cacca d'autore Terribile, terribile Stavamo camminando, eravamo nella zona più o meno vicino alla Mondadori Vedo un gruppo di ragazzine Avranno avuto sui 17 anni più o meno, 18 anni Una di queste da lontano, io la vedo, mi guarda Io faccio finta di niente, magari mi conosce Finché non mi rendo conto che in realtà non è un... Ormai lo so con gli anni Non è il classico sguardo di uno che mi riconosce E si sta avvicinando per dirmi sei Mark Mi c'era qualcosa che non andava Cioè io l'ho guardata, mi ha riconosciuto Ma dentro di me dicevo Secondo me non è uno di voi Ci avviciniamo Si stacca dal suo gruppo, mi arriva qui ragazzi Che io sono andato dietro verso Francia Ma vi giuro, ho detto, adesso mi bacia Si avvicina qui davanti e mi fa Tommy Chi? Questa cosa non me la ricordo Francia ha detto che io davanti a lei gli ho detto Chi? Proprio, io non mi ricordo E c'era questa ragazzina felicissima Ma proprio così E io E io ho detto Chi? E siamo andati via fingendo che non sia mai successa quella cosa lì Imbarazzato più io che lei Con le sue amiche Ma chi è Tommy adesso? Cosa ce la faccio eh Mi hanno sbattuto contro il mullet Te l'ho fatta incredibilmente Eh, io no No, per fortuna quel paio di persone di cui posso vivermi ci sono Nooo, lì No Andiamo a vedere dentro qua Enzo salvi, ho salutato Enzo Oh mio dio, cosa hai fatto? Lì, no mio dio Perché se si può sedere così a fare namaste? Non ci stavo guardando bene cosa Eh, si vede che mi sto po' putt E sali, sole Tutto duro, sto pirla Guarda che bello che è tutto storto Ma che schifo Ma cos'è, cos'è sta porcheria Vado Vado dentro il guado Vado Buona Buona Ma questo è un bello squizzo, ragazzi Questo è uno dei tiri più lenti del mondo Incredibile, incredibile impressionante Come facciamo? Come stiamo facendo? Come stai? Tanto qua ci sei colinorio quindi il perseguimento su cistore No, che ci fanno sei soli studenti Ma si Moro, sono ragazzi In caso assumiamo un giappone... come si chiama? Assumi giapponeser No, era... Assumiamo un... Quindi che c'hanno bisogno di sedere? Che si chiama col martello pneumatico con la... Con la clava? Ma io che cazzo ne so? Cos'è? Un custode... Corridoio rosso con un ragazzo dell'est che faceva... Oh, oh, e suona qua perché andavamo a spaventare. Era terrificante, era imbarazzante, era. Imbarazzante, era. Sono uscito cringiato, sono uscito. Tutto molle. Ma ragazzi, ma come si fa a fare questa cosa qui? Eh? Ti occhio alle bombe? Non lo fare! Scusami. No, mica... Sei impazzito da betto? Ma tu sei un coglione! Ma tu sei un coglione! Aspetta, io sono passato perché ho aperto la porta. Tu sei uno stronzo, sei! Si vedeva! Va bene, allora, questa volta non è colpa mia, sì, cazzi. Il mio occhio non l'ha visto. Ho potuto scegliere il prossimo minigioco, ho potuto scegliere. Penso di sì. No! E sarà prosciutto melone, ragazzi. No! AIA! È arrivato un topo. Ma questo livello è sempre stato così. Ma... Ma è come una luce la macchina. Ma mi vedi? Abbassati. Abbassati tutto? Aspetta, eh? Come tutto? Ma sì, tutto è un ciccolino! Ma no! Comunque non mi ha voluto dar la tripetta. Ma dove eri? Non to ne... Ero libero qua. Metti mezzo. Zucca! Ma non si spiega! Tripetta di Moro! Tricando zucca! Intanto di esatto! Sì! Il punto di... Ragazzi, ma da quando è che Moro ha imparato a fare i movimenti? Scusate. Ma che vuoi! Che vuoi! Ma questo scismuto! Ma basta questa scismenza! Ancora qui siamo! Cosa fa Moro? Ragazzi, l'abbiamo già fatto! Per favore, posta! L'abbiamo già fatto! È intima di fermarsi! Spidra ne gorgonzola. Cosa ho detto? Ma dove si esce? Lì, lì! Andava bene! Dove vai? Marco! Ma dorni indietro! Non è indietro! L'altro! Destra! 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 Dov'è il mio golf cart? Chiudi sta porta! Destra! Ma corta bestia! Ma c'era un bomba! Ma dov'era questa? Dov'era la bomba? Ma come cazzo siamo a dirvi? Ma sai che secondo me ti ha tirato una granata a lui? Ma se la... Eh, mi sa di sì quante probabilità ci sono ogni cacchio di volta. Eh, ma se dobbiamo essere in dieci perché tu sei fuori gioco tutto il tempo. E io aspetto, sono pronti qua. Devo solo partire! Vado, vado! Ah! L'ho fatto ragazzi! L'ho fatto io! Eh, probabilmente l'avete preso in un pensore, sì. Per me facciamo in tempo prenderla. Eh, può essere, guarda qui. L'avete preso da davvero. L'avete preso da fuori. Ma cosa fai che corre tra l'altro? Ma dieci, Lino! Ma che sfondatore di anni! C'è i twerky proprio con quel sedere. Eh, un po' di culo ogni tanto ci vuole, ragazzi, nella vita. Ogni tanto ci vuole, ma io... È proprio dove c'è il boss. No! No, no, erfepecchia! No, Lino! Ma è cassoso. Però non so se è considerato gigante. Io non me lo devo cercare, Lieter. Eh, effettivamente sembra grande, ragazzi. Ma sono tutti più grandi, a parte Pluto. A parte Pluto sono tutti più grandi. E' una pallina di gomma, vado a me. E' una pallina matta, eh. Valdford, qui va a Londra... Eh, sei molto figo. Ti va anche a Dimburgo, perché Harry Potter ha ispirato tutto il team 1. Puoi sparare al coso dell'acqua per vedere se esce l'acqua? Non parlo subito, Lino. Come mai non giochi? Esce un po' l'acqua. Guarda, guarda che si abbassa il livello! Ti prego! Aspetta, aspetta. Guarda se è fermato dove c'è il buco, se è fermato. No, vabbè. Il futuro, il futuro. Vuoi sapere dov'altro... Cosa lo apprendi, Marco? Ma non la lanciare! Gli hai fatto un buco alla cosa! Era per vedere la fisica. E... Allora... Grazie a tutti.